buongiorno cari amici e buona giornata e buon venerdì 5 marzo 2021 a tutti poco dopo le ore 12 volevo iniziare questo video parlando a differenza degli altri giorni già del festival di sanremo 2021 che è arrivata la sua terza serata con ieri sera ma prima di andare a fare un resoconto sui duetti e la top 10 della classifica volevo veramente fare un grande applauso ovviamente innanzitutto ha donato grande per la sua performance nel suo intervento ieri al festival promuovendo oltre che la nostra città di trani anche il calcio in carrozzato il power chair sperando che possa arrivare chissà magari un tempo anche come disciplina olimpionica donato ovviamente molto conosciuto qui da noi in città ma anche altrove al festival soprattutto per il suo tifo in rosso nero al milano ed è lì che proprio grazie ad amadeus che ha praticamente dato l'intervento di zlatan ibraimovic con cui sia zlatan che donato hanno scambiato dei passaggi abbastanza spesso inserati con un pallone e poi anche i gesti di apprezzamento di ibraimovic che ha donato la maglia la sua maglia del milan ha donato e donato che ha donato la maglia personalizzata targate ebraimovic di power chair allo stesso zlatan e anche poi una maglia per amadeus di power chair e poi c'è stato anche diciamo un resoconto breve da parte di amadeus per quando riguarda la disabilità è come purtroppo ancora in giro vige tanta e dico purtroppo tanta ignoranza e maleducazione su chi gente come donato e magari ripeto io sicuramente non mi trovo nella situazione di stare su una carrossella anche se magari in forma più lieve una disabilità ma comunque bisogna fare tantissima attenzione a queste persone oltre che ovviamente non dobbiamo nasconderci ma dobbiamo dire che in pratica tutti quanti noi abbiamo delle disabilità che possano essere fisiche psicomotori o quant'altro quindi tutti siamo fragili e tutti stiamo sulla stessa barca ma maggior razio ha maggior ragione quando ci sono queste persone con queste difficoltà di deambulazione bisogna dare molta molta precedenza e soprattutto come ha detto amadeus evitare quei fastidiosi menefreghismi del parcheggiare sul marciapiede evitare il passaggio libero di queste persone come donato in carrossella quindi ci tenevo davvero tanto a fare questo questo segmento iniziale anche perché c'è un po' ieri io ho preso l'attenzione da un'altra cosa che mi sono gustato il film cane e gatto di bud spencer e thomas millen degli anni 80 su cine 34 però poi ho rivisto proprio poco fa il momento dell'ospitata di donato grande al festival sull'iplay e se non lo avete visto andatevelo a vedere ma penso che a parte noi quattro anni i commenti su questa su questa cosa sono abbastanza molto molto positivi e ora invece andiamo a fare un resocondo dei duetti per esempio noemi neffa prima di andare via 2013 a settesimo posto fulminacci valerio lundini a roi paci penso positivo quindicesimo posto francesco ring casa di lega una ragione in più del 69 diciannovesimo posto extra liscio featuring davide toffolo peter pizzer rosa munda midley terzo posto stavano la top ten pasman esli la fine del 2009 ventesimo posto buco pinguini tattici nucleari un'avventura di battisti del 69 ventitresimo posto la micheline fedez e allora felicità ventunesimo posto irama cirano francesco cuccini del 96 tredicesimo posto quinto nella top ten i maneschi in insieme a mano e l'agnelli amandoti di fedele alla linea dal 90 sesto posto 10 top ten random the colors ragazzo fortunato venticinquesimo posto willy peyote samuele bersani giudizio universale dal 97 quarto posto terza nella top ten oretta berti ledeva io che amo solo te di entrigo 62 secondo posto nono nella top ten gioia evani cantanti di the voice senior gli anni 883 95 ventiquattresimo posto gemo neri per caso l'essere infinito decimo posto la rappresentante di liste con donatella rettore splendido splendente dal 79 nono posto arisa michele bravi quando pino daniel del 91 quinto posto quarto nella top ten madame titolo impronunciabile diciottesimo posto lo stato sociale manuela fanali francesco panofino lavoratore dello spettacolo non è per sempre after hours dal 99 undicesimo posto sesto nella top ten analisa federico poi oggi pollini la muschia è finita il 67 settimo posto secondo la top ten gaia luce in yakuza mi sono innamorato di te dal 62 dodicesimo posto con la pesce di martino povera padre al frango battiato quattordicesimo posto dal 91 come cose alberto radius e mamma cassi il mio canto libero lucio battista il 72 vendisesimo posto ma lì caiani insieme a te non giusto più della casali 68 sedicesimo posto settuno la top ten venduno vendi quattresima esibizione max gazzella triflu operazzino mostri band daniele silvestri e mmb del mondo ottavo posto er malmeta napoli mandolino orchestra caruso di dalla dell 86 primo posto e primo posto nella top ten ultima esibizione a yellow coi vegas jones gianna rino gaeteno dal 78 vendiduesimo posto co conduttrice vittoria ceretti ospiti negramaro con le varie performance ibraimovic valeria fabrizzi sinise mielovic donato grande andonella ferrari achille lauro con emma marrone monica guerritore penelope nel quadro popular music la quarta serata i quattro finalisti delle nuove proposte ospiti emma marrone alessandra amoroso e mahmud poi sempre per quando riguarda sanremo ora ricerco subito la regia allora vediamo un attimino vediamo eccoci qua allora sanremo 2021 terza serata 10.596 mila spettatori con 42,4 per cento di share nella prima parte bene rispetto a ieri nell'edizione del 2020 i dati erano pari a 13.533 mila spettatori con 53,6 per cento di share ma il terzo appuntamento con sanremo migliore invisibilità rispetto al secondo ascolto medio di 7.653 mila spettatori uno share del 44,3 per cento a favore anche dei duetti con i brani celebre della nostra canzone italiana poi vediamo allora resta irraggiungibile il record lo scorso anno quando la serata duetti fece segnare in media a 9.836 mila spettatori con 54,5 per cento di share poi chiudiamo il video ritornando in argomento di wrestling parlando di all elite wrestling di revolution 2021 primo per per view del 2021 che andrà in onda dal daily space di jacksonville in florida domenica 7 marzo 2021 ma prima di andare a narrare la card volevo dire che va bene sicuramente big show nel suo trasferimento all'ol elite ha dovuto cambiare anche qualche cosa a livello anche di caratteristica di personaggio però ovviamente speriamo che non sia dal punto di vista morale proprio uno schiaffonetto la WWE a livello di rapporti ma spero e credo di no invece parlando un attimo di chaglione il famoso cestista americano che proprio questo mercoledì questa settimana ha debuttato sul ring addirittura della federazione dei fratelli Ross e di Tony Khan e ha avuto un discreto anzi un modesto rendimento anche se lui e la partner hanno perso la sfida però e poi se non mi sbaglio anche il segmento abbastanza visto sia quello di chaglione che ha doppio con anche la reazione a post e quello di big show che in arte nella vita vera Paul White bene la card di revolution che se la memoria non mi inganna sarà visibile per quanto riguarda l'italia credo sia su Sky Sport prima fila col commento in italiano penso anche su Fight TV ma in lingua originale presumo dalle 2 di notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo i match ufficializzati e credo che la card sia pressoché completa anche se prima di cominciare a dire il match volevo dire che lo stesso Big Show ha un microfono di Tony Schiavone detto da loro Tony Schiavone magari pronuncia americhena che ci sarà per quanto riguarda il ladder match ci sarà praticamente per l'opportunità TNT un wrestler misterioso e ovviamente le voci già stanno rimbalzando alla grande sul web Christian, Battista, CM Punk, eccetera eccetera lo scopriremo che lo guarderà in diretta domenica notte o com'è ma lunedì allora i Young Bucks difenderanno le cinture mondiali di Coppa Matt e Nick Jackson contro MJF e Jericho l'Inner Circle con assistenza di Wardlow il Team Taz, Brian Cage e Ricky Stas con assistenza di Taz affronteranno il 2 contro 2 combattimento da strada da Street Fight, Derby, Allie e Sting ritorno di Sting ha più di 60 anni sul ring in azione mamma mia poi sfida tutto orientale Icaro, Uscida contro Rio, Mizunami per il titolo massimo mondiale femminile della federazione Hagman, Adam Page contro Matardi, Big Money Match chi vince riceverà cioè qui si gioca in palio un quarto dello stipendo dell'altro dal 2021 poi abbiamo detto il phase of the revolution ladder match per una futura opportunità il titolo TNT detenuto ricordiamo da Derby Allin al momento ma che prima o poi sarà nelle mani del figlio lo ricordiamo di Luke Harper io lo chiamo così perché è il nome che abbastanza ho a memoria di quando lo stavo in WWE lui per questa sfida abbiamo Cody Rhodes con l'assistenza di Arn Anderson Scorpion Sky, Penta Zero Medo Lance Hatcher con l'assistenza di Jake The Snake Roberts Max Caster e appunto il wrestler misterioso e poi Kenny Omega con l'assistenza di Don Gallis difenderà il massimo all'oro mondiale maschile contro John Moxley in quello che sarà un exploding burbed where did match e leggevo proprio a Chirky e Cody Rhodes nella conferenza stampa ha detto che questa sarà una sfida molto troppo troppissimo nuda e cruda quindi sicuramente penso che quando vedrò poi il tutto sicuramente non mi piacerà immagino già magari il sangue da parte di entrambi vabbè contendi loro e che dobbiamo fare? vabbè diciamo che John Moxley non va abituato a questo anche quando lottava prima della All Elite prima della WWE e nelle indipendenti poi Mira e Kip Sabian con l'assistenza della bellissima Penelope Ford con The Best Friends Orange Cassidy e Chuck Taylor in un 2 contro 2 normale poi ci sarà la classica Casino Tag Team Royal per una futura opportunità per i titoli mondiali di coppia maschili futura match titolato e qui i nomi sono tantissimi vabbè non ve li sto a dire però diciamo che sono tanti che scenderanno sul ring per questa sfida e vedremo e poi già denominato come prescio rio e in tante rosa affronteranno la dottoressa Brist Baker di MD & Rebell in un 2 contro 2 al femminile quindi che possiamo dire che sicuramente regalerà spettacolo revolution come vi ho già detto penso altrettanto che la sfida tra Omega e Moxley non mi piacerà perché sono sicuro che ci sarà dal sangue quindi perché a me piace l'azione l'acrobazia però le cose eccessive no ma credo quasi a tutti a meno che a uno non sia proprio nell'istinto che gli piace quel discorso lì quindi io vi ringrazio tutti per l'attenzione scusate se sono stato un po' più lunghino ma mi sembrava abbastanza garbata la cosa di incominciare col festival di Sanremo Donato Grande Ibrahimo Vichiamadeus Powerchair ecco l'immagine anche di videocopertina di Sanremo quindi noi ci vediamo sicuramente domani per commentare la puntata della notte tra oggi e domani di SmackDown ricordiamo che ci sarà la sfida tra Daniel Bryan e Giuso per in caso vince Daniel Bryan andrà ad affrontare Fastlane il prossimo PPV di Rose McDonnell il 21 marzo andrà ad affrontare Roman Reigns campione universale eh però senza dimenticare che è stato finalmente annunciato la prima sfida del PPV che vedrà contrapposte le campionesse femminili di coppia la Gersela Banzler difendere le corone di coppia contro Bianca Belair e Sasha Banks quindi buon proseguimento buon inizio di fine settimana noi ci vediamo alle prossime occasioni oggi avete visto il bello abbondante il video quindi buon pranzo a tutti alla prossima ma frepide me dole la cocci ciao